Nessuna grossa sorpresa nella seconda giornata del Memorial Fortunato, successi per progetto casa ed RG Service che sbrigano le rispettive pratiche in un tempo. Troppo forte il progetto che nel match delle 22 si impone con largo scarto. In 6 minuti 5 gol, apre Monaco su punizione, Sarniolo raddoppia al termine di un'azione corale e Cipulo fa tris con la complicità del portiere avversario. Reazione d'orgoglio di Mazzarella e Soci concretizzata dai gol di Scialla su suggerimento di Cozzi e dello stesso Cozzi assistito da Orefice. Ma i viola tornano immediatamente a spingere sull'acceleratore, trovando con Monaco e Vardaro le reti per l'allungo definitivo. Scialla fallisce un libero per poi rifarsi all'inizio di presa da due passi. Monaco continua a fare danni nell'area di Bardoino e la partita ormai non offre più spunti. Elson fa doppietta e finisce 12-3 con la Bet 11-28 pronta a rifarsi con la formazione al completo. I pronostici di Stelle, Ibet e Regiservis erano scontati fin dal prepartita. I ragazzi del Santerasmo confermano la propria superiorità al termine di un incontro in archivio già all'intervallo. Eppure i giolorossi partono bene colpendo una traversa ed esaltando i riflessi di De Pascale. Al primo vero affondo però gli avversari passano. Busino lascia partire un destro imprendibile che sblocca il risultato. Poco dopo Gennaro Monaco fa centro sul calcio di punizione e la Stanley va in affanno raggiungendo subito il bonus. Prima Bucciero calcia al lato, poi si presenta Cecere che in meno di un minuto scrive il 4-0. Il numero 17 in palle, cale il tris quando Monaco gli suggerisce un bel pallone dalla destra. Sesso copione nell'azione successiva e il match ormai è segnato. Nel secondo tempo Casale si fa ipnotizzare dal portiere fallendo un calcio di rigore. Busino allunga e solo al decimo arriva il primo gol della Stanley. Sant'Anastaso non lascia scampo a De Pascale che può solo toccare dando l'illusione della respinta. Vementi proteste ma il replay conferma che il pallone è pienamente entrato. Michele Sant'Anastaso va ancora a segno, poi lo imita Monaco con due gol di fila. Botte risposta a Busino Sant'Anastaso e Di Monda chiude il conto sul 10-4.